Gli addetti alla cyber security stanno continuando a lavorare senza sosta. La task force che si occupa di risolvere le problematiche legate all'attacco hacker di venerdì scorso ai danni dell'Ulz 6 è impegnata a 24 ore su 24. Oggi l'unità di crisi dell'Ulz e Uganea ha definito un piano di progressiva riattivazione dei servizi a partire dal weekend, facendo particolare attenzione a quelli giudicati urgenti. Le priorità annunciate come obiettivi prioritari da ripristinare si parte dal pronto soccorso, anatomia patologica, laboratorio analisi, radiologia, servizi per le ricette dematerializzate, prelievi, approvvigionamento sangue. Intanto il lavoro procede senza sosta con riunioni quotidiane e bonifica di tutti i computer e forniture informatiche dell'azienda.